Salve a tutti! Oggi, per ringraziare tutti voi del superamento della soglia dei 100 iscritti al mio canale, ho deciso di pubblicare un altro tutorial su alcune nuove tecniche di griffing. Come avrete capito dal titolo, con queste nuove, e devastanti metodiche, potrete costruire dei sistemi in grado di pietrificare automaticamente, e molto più velocemente che con le tecniche classiche di pietrificazione. Ciò significa anche minore possibilità di farsi beccare durante la griffata. Il lato negativo infatti della pietrificazione è che è una tecnica lenta a causa della bassa velocità della lava. Ora non dovrebbe essere più un problema questo. Per iniziare vi mostrerò la semplicissima tecnica di autopietrificazione base, da cui ho preso spunto per tutte le altre che descriverò successivamente usando come bersaglio questo villaggio NPC. Per effettuare un'autopietrificazione, le uniche condizioni necessarie e sufficienti alla corretta esecuzione della tecnica sono tre. La lava deve cadere su una superficie piena di acqua continuamente rifornita dall'alto, i flussi dei due fluidi non devono mai scontrarsi prima di arrivare a terra e l'acqua deve continuare a cadere sopra la pietra che man mano si forma. Ottenere queste tre semplici condizioni, anche senza grandi sforzi, è più semplice di quanto si pensi. Ad esempio è possibile pietrificare l'interno di questa casa semplicemente piazzando delle sorgenti d'acqua sui lati dei muri, e poi facendo colare dal tetto la lava. Per essere sicuri che i flussi non si mischino prima di arrivare a terra, tenete la lava e l'acqua distanti almeno tre blocchi fra loro. Alla fine della procedura, la lava brucerà la casa in legno e rimarrà solo la pietra incandescente. Ora passiamo dalla teoria alle tecniche vere e proprie. Il mio obiettivo successivo è stato cercare di costruire una macchina in grado di rendere questo processo possibile ovunque. Il primo risultato è stato questo simpatico giochetto. Semplicissimo da realizzare e non più costoso di un normale grinder per pietrificazione, il mini pietrificatore consente al griffer esperto di iniziare la pietrificazione con ben 4 step di vantaggio. Si avete capito bene. Le prime 4 pietrificazioni non le farete togliendo e mettendo 4 volte lava e acqua, ma in un solo passaggio. Per costruirlo costruite una scala alta 3 gradoni e spessa 3 blocchi, rompete i blocchi sotto il secondo gradone e al centro metteteci un secchio di acqua. Fatto ciò posizionate la lava al centro dell'ultimo gradone e in 3 secondi questa si allargherà di circa 10 blocchi in tutte le direzioni pietrificandosi usando l'acqua sottostante e autocostruendosi il grinder per voi, la permettendo. Successivamente, potrete poi come al solito posare l'acqua e la lava in sequenza per aumentare il raggio di danno. Il principale limite di questa tecnica è che richiede un terreno perfettamente piano, almeno nel raggio di una decina di blocchi, per essere iniziata, in quanto la presenza di dislivelli disturberebbe il flusso dell'acqua. Per questo motivo, e perché avevo anche intenzione di aumentare più velocemente la raggio di danno, ho iniziato a lavorare sulle altre due tecniche che vi descriverò ora, ma che come base, hanno sempre la struttura del mini pietrificatore. Queste ultime due tecniche sono semplicemente devastanti. La prima è, come dice il nome, una stringa in grado di autopietrificare tutto quello che ci sta sotto. Le stringhe di solito sono delle scalette larghe un blocco utilizzate per fare in modo che lava e o acqua possano espandersi lungo ampie superfici prima di cadere a terra. Sono infatti molto utilizzate dai griffer per colpire grossi edifici o comunque aree molto vaste con una sola secchiata. Per pietrificare, di solito prima si fa cadere della lava sulla stringa e poi ci si butta sopra dell'acqua dopo aver tolto la sorgente. Ma questo metodo è estremamente lento, in quanto la lava può metterci minuti per percorrere tutta la stringa, se questa è molto lunga. Il design delle mie nuove stringhe autopietrificanti risolve definitivamente questo problema. Sarà infatti sufficiente buttare la lava sulla stringa per fare in modo che tutto il bersaglio sottostante si trasformi in informe pietra mentre voi ve la darete a gambe. Nel costruire questo sistema è importante fare le cose a regola date e precise. Si inizia andando a un livello più alto del vostro bersaglio, quindi da lì si costruisce una scala spessa tre blocchi, in modo da coprirlo tutto. Nel far ciò bisogna ricordarsi di rompere i blocchi dietro il secondo gradone per dare posto all'acqua come fatto prima e poi, ogni tre gradoni, il terzo fallo solo spesso un blocco e ai due lati di questo, mettere delle mini scalette lunghe tre blocchi, come mostrato nel video. Questa particolare struttura serve per far colare la lava a una distanza sufficiente dalla sorgente d'acqua che sarà posta fra le due scalette, in modo che la pietrificazione non incominci sulla stringa, ma solo al suolo. Volendo, se volete fare più veloci, potete piazzare le ali, termine che uso per indicare le due mini scalette, anche a un numero di gradoni maggiore. Ma ricordatevi che le sorgenti di acqua devono distare almeno tre blocchi da quelle di lava. Quindi non fatele mai meno di ogni tre gradoni. Ora piazziamo l'acqua sotto il secondo gradone fra le ali. Poi piazzeremo la lava e vedremo l'effetto. Ricordatevi che questi secchi d'acqua li perderete, quindi fatevi una fonte infinita in modo da averne a sufficienza per coprire tutta la stringa. Ho allungato ancora un po' il giochino per coprire tutta la casa. Ora via con la secchiata di lava. Come potete vedere, i flussi di lava e acqua non si miscelano sulla stringa. Quando la lava toccherà terra, pietrificherà in automatico. Ecco qua. Che lo spettacolo abbia inizio. Di questa casetta rimarrà poco o nulla. Inoltre notate come in realtà, una sola secchiata in automatico produca più step di pietrificazione. Ma il bello deve ancora venire. Ora, visto che non siamo codardi e non ci piace scappare, togliamo la lava e mettiamo l'acqua. Guardate che spettacolo. Non c'è un solo lato della casa non preso. Per vedere l'ultima sorpresa, togliamo anche l'acqua. E mettiamo altra lava. Le vedete le sorgenti che ho messo sulla stringa? La lava incaduta prima non le ha distrutte. Sapete ora cosa succederà? L'acqua proveniente da queste sorgenti scorrerà ancora sulla pietra che si è formata con lo step precedente, pietrificando anche 4 o 5 volte più velocemente la struttura di quanto non si possa fare con le stringhe normali. Vediamo ora il risultato della seconda pietrificazione. Ecco qua cosa rimane dopo l'acqua. Ora facciamone una terza. E una quarta. Con tre secchiate abbiamo già fatto fuori mezzo villaggio. Alla quinta secchiata ho preso anche la torre centrale e quasi tutti i campi intorno. Per rendervi conto di quanto velocemente avanza la pietra guardate questi stessi campi nei vari step. La ragnatela di norma usata dai griffer si ottiene incrociando delle stringhe a singolo blocco le une alle altre, in modo che una sola secchiata possa far colare lava e o acqua su tutte le stringhe costruite. L'espressione più famosa di questa tecnica è nella missione 13 del capobastone. La ragnatela autopietrificante non è altro che un insieme di stringhe autopietrificanti incrociate fra loro. Il vantaggio di questa tecnica rispetto alla precedente è di potersi espandere per un'area maggiore, con un minor numero di secchiate successive. Per incrociare le stringhe è bene sempre tenere presente la regola dei tre blocchi di distanza fra le sorgenti di lava e quelle di acqua. Le stringhe concatenate possono quindi iniziare o dal gradino più alto di un'altra stringa, andando verso il basso o lateralmente, da una zona che non presenta ali. Ricordatevi di non far partire mai una stringa laterale da un'ala di un'altra stringa, di far terminare una stringa a terra sempre col secondo gradino scavato dietro, in modo da poter mettere il solito secchio di acqua, e di mettere un altro secchio di acqua sotto il punto più alto della costruzione, come si vede nel video. Inoltre, a differenza delle stringhe classiche, ogni stringa autopietriificante della ragnatella richiede un suo secchio di lava. Non è quindi possibile usare una sola secchiata per alimentare tutte le stringhe. Il vantaggio però di concatenarle è di espandere la pietra non su un solo asse, ma anche su due, in modo simile a quanto accade per la normale tecnica della pietrificazione. Come vedete, non è neanche necessario che le stringhe siano lunghissime per coprire grosse aree. Ora mettiamo le solite sorgenti sotto la ragnatela finita. Questa che ho costruito dovrebbe spandersi lungo tre direzioni, avendo tre braccia. Ora mettiamo la lava all'inizio di ogni braccio. Scusate la caduta. Ora vediamo che succede. Ecco il risultato. Bello vero? Ora l'acqua. Ora come prima vado avanti con le secchiate, e vi mostro ogni volta come il mostro si ingrandisce. Seconda secchiata. E terza. Guardate che raggio d'azione. E questo solo con tre step di pietrificazione. Spero vivamente che queste tecniche vi siano utili. Se è così mettete un mi piace, iscrivetevi al canale e o aiutatemi a diffondere questo video. Se avete dubbi i commenti sono su YouTube per essere utilizzati. Arrivederci alla prossima. Grazie a tutti.